Amici di Teledeon, bentrovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti. Ormai la data elettorale la conoscete, bisogna andare velocissimi verso questo traguardo che offre una scadenza importante sia per il livello regionale con il rinnovo del Consiglio regionale e la individuazione del nuovo Presidente per i prossimi cinque anni, ma anche per il livello comunale. Infatti ad Andrea si torna a votare per rinnovare il Consiglio comunale e scegliere il nuovo Sindaco per i prossimi cinque anni. Oggi incontriamo due protagonisti di questa competizione elettorale, entrambi candidati per Forza Italia, il primo a livello regionale è candidato al Consiglio regionale e il secondo è candidato al Consiglio comunale. Parliamo di Antonio Nespoli, grazie per essere con noi, commissario cittadino di Forza Italia ed è appunto candidato al Consiglio regionale. Dall'altra parte incontriamo Aldo Balducci, anche lui avvocato, candidato al Consiglio comunale per Forza Italia, il Consiglio comunale di Andrea, grazie per essere con noi. In passato anche lui ha ricoperto il ruolo di candidato, di segretario cittadino di Forza Italia e è stato anche candidato al Consiglio comunale nel 2010 ma ha ricoperto un po' tutti i ruoli importanti dell'avvocatura tranese, ricordiamo anche è presidente attuale dell'associazione degli avvocati andriesi ma ha ricoperto anche il ruolo di tesoriere dell'ordine degli avvocati. Grazie ad entrambi di essere con noi, partiamo subito da una considerazione regionale, da una considerazione che riguarda l'intera Puglia. Questa campagna elettorale sta mostrando da una parte Michele Emiliano che ha riempito la sua compagine di liste, anche spesso non pienissime di nomi, dall'altra parte Raffaele Fitto che sta andando sui temi, sui concetti di questa competizione elettorale. Sì, è evidente che il presidente Emiliano abbia fatto ricorso a questo escamotage per cercare di carpire il consenso degli elettori pugliesi perché chiamare a suo supporto ben 15 liste, alcune delle quali composte da poche persone che vengono ripetute in abbinamento sulle varie circoscrizioni, credo che non sia indice soprattutto di serietà e di correttezza nei confronti dei pugliesi perché qui stiamo parlando di un presidente uscente che deve avere le idee chiare su quello che ha fatto e su quello che intende fare e su questo chiedere il voto agli elettori pugliesi. Invece ricorrere a questi mezzucci di liste nate che ne sono veramente tra un gruppo di amici e così tante che fanno disperdere il voto ma al solo fine invece di acchiappare il voto appunto di più persone possibili, credo che non vada bene come non vada bene questo continuo appello che si sta facendo al voto disgiunto nei confronti degli elettori del Movimento 5 Stelle perché se si crede in un progetto è su quello che si deve chiedere il voto e non dire ad altri votatemi, altrimenti andrebbero a governare le persone che rappresentano la peggior Puglia. Ho letto proprio stamattina una dichiarazione, il male, insomma una cosa associata a una cosa negativa se dovesse vincere la coalizione di centrodestra. Lei si sente il peggio della Puglia? Io non mi sento il peggio come credo che anche gli altri candidati ma diciamo ognuno deve pensare a puntare a progetti di qualità a far crescere questa Puglia e credo che i dati statistici e i numeri boccino l'operato di Emiliano su tanti fronti in particolare su quello in agricoltura ma sul versante della Xilella anche sul versante dell'Ilva di Taranto su tante questioni che lo hanno visto prendere delle cantonate incredibili che hanno determinato dei ritardi, dei contraccolpi anche e soprattutto di natura economica. Dall'altro lato abbiamo un progetto più serio con cinque liste a supporto, con candidature di qualità e con a capo un candidato presidente che ha esperienza in Europa per intercettare finanziamenti cosa che dall'altro lato non è accaduto perché si sono persi come dicevo prima dei fondi ordinari figurarsi ora che sarà necessario e ci sarà l'opportunità di ricorrere a dei fondi straordinari ad hoc previsti legati a questo periodo di emergenza e che daranno i propri frutti riversando queste risorse a livello regionale e a livello anche comunale. Prima di arrivare proprio a questo tema che è quello decisivo per il futuro della nostra terra presentiamo Aldo Balducci. Chi è l'avvocato Aldo Balducci? Io sono un avvocato penalista, opero ad Andrea ormai da diversi anni, sono impegnato nell'ambito dell'avvocatura tranese a livello istituzionale, ho ricoperto il ruolo di consigliere dell'ordine degli avvocati e poi successivamente di tesoriere, ormai sono diversi anni che sono impegnato sul fronte istituzionale, attualmente sono presidente dell'associazione Avvocati Andriesi, organizziamo tanti eventi formativi che hanno risonanza nell'ambito del nostro circondario del Tribunale, non solo finalizzati alla formazione degli avvocati ma penso anche a una crescita culturale della nostra comunità. Lei più volte nel corso degli anni ha avuto un impegno anche politico, sempre nell'ambito di Forza Italia, sempre a favore delle cose da realizzare, per esempio il suo impegno ultimo è a favore della scuola, scuola che ha la necessità di ripartire però deve farlo in sicurezza e quindi si pone un problema soprattutto di edilizia scolastica. Ma sì, noi pensiamo che la scuola debba essere proprio al centro dell'azione politica, non è solo un fatto nazionale, la scuola non deve essere oggetto di attenzione solo da parte del Ministero. Io penso che i comuni, tutti noi, dobbiamo occuparci della sicurezza dei nostri ragazzi, della sicurezza delle famiglie ma anche dei docenti. Leggevo l'altro giorno su una testata online l'appello proprio di una docente che diceva ho paura ma sarò in classe il 24 se non vado errato, ma sarò in classe il 24 per adempire al mio dovere. Ecco, noi non dobbiamo avere degli eroi, noi dobbiamo essere tutti consapevoli diciamo delle nostre azioni e dobbiamo fare in modo che i docenti, le famiglie, i ragazzi inizino l'anno scolastico in perfetta sicurezza. Come fare? Come fare ad evitare che un docente ma anche gli studenti, ma anche i genitori degli studenti hanno paura in questo momento? Certo, e questo è quello che è mancato. Sono mesi che sentiamo dalla Ministra Azzolina linee guida, direttive per l'apertura delle scuole ma di fatto non è stato in realtà realizzato nulla. È arrivato un contributo dei 670 mila euro al Comune di Andria per l'adeguamento delle scuole, ma di fatto questo adeguamento delle scuole non c'è stato. Bisognerebbe ridisegnare alcuni ambienti scolastici per garantire che le aule siano di dimensioni tali da poter appunto garantire il distanziamento, ma non solo. Andrebbe secondo me anche utilizzato quello che c'è di buono nell'ambito del decreto sviluppo, decreto rilancio del governo. Ecco, questo è particolarmente importante questo aspetto perché ci sono contributi che arrivano sino al 110% che possono essere utilizzati da privati, quindi ciascuno nella propria abitazione, ma anche dal settore pubblico, quindi gli enti locali potrebbero utilizzarli. Certo, e noi su questo vogliamo spingere, anche perché secondo me è un buon sistema per mettere in monto l'economia, è un buon sistema per mettere in monto l'edilizia che ad Andria ormai è ferma un po' da tanti anni. C'è qualche cantiere, ma effettivamente non c'è il motore economico della nostra comunità che è sempre stato quello dell'edilizia. Anche perché hai detto francamente non ci sono neanche i soldi per acquistare le case una volta finita, quindi l'economia si ferma anche a questo. Però ci sono tante opportunità, ci sono dei mutui a tassi agevolatissimi in questo momento, tante giovane coppie, i prezzi delle abitazioni sono in parte ridimensionati, quindi si potrebbe mettere in monto la macchina. Come si mette in monto la macchina? Sfruttando questo strumento che è uno strumento di leva fiscale molto importante, in quanto i lavori verrebbero realizzati a costo zero. Quindi questo non solo per il privato, ma anche per la pubblica amministrazione. Quindi fare un censimento di tutti i prezzi scolastici, come lei sa il comune è competente per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola primaria di primo grado, elementare, la scuola primaria di secondo grado, le scuole medie. Quindi censite tutte le scuole, vedere quali scuole hanno bisogno ad esempio della sostituzione degli infissi, e assicuro che la maggior parte delle scuole stanno con gli infissi a 50 anni fa, posizionare delle grate a livello delle aule superiori per evitare pericoli quando le finestre sono aperte per i ragazzi durante la recreazione e dei momenti di svago. Ecco, tutte queste cose possono essere realizzate a costo zero da parte dell'amministrazione comunale. Quindi fare un elenco, ad esempio disporre un elenco delle imprese che si dichiarano disponibili a fare i lavori a costo zero, queste imprese andranno ad avere un vantaggio fiscale perché il loro credito diventerebbe del 110% rispetto al 100% che andranno a realizzare e poi ci sono importanti istituti di credito che sono disposti a fare la cessione del credito. Quindi poi l'azienda avrebbe il proprio riscontro cedendo il proprio credito all'istituto bancario e l'istituto bancario, che ha grossi numeri, avrà i suoi vantaggi fiscali con l'abbattimento del credito. Io dico che se mettiamo in monto questa macchina e diventa un vero e proprio motore economico, non solo per il privato ma anche soprattutto per il pubblico. A questo proposito è utile ricordare che questo meccanismo può mettere insieme una vera e propria filiera tra ente comunale, ente sovraordinato che è la regione. Sì, perché quello che può accadere nelle scuole di competenza comunale naturalmente è possibile nelle scuole di competenza provinciale, limitandoci alla nostra circoscrizione, ma naturalmente e stesso a tutta la regione. Quindi va creata una rete seria, importante, che prevede dei meccanismi di intervento ben precisi, rapidi. E purtroppo è inutile negarlo, abbiamo letto di appelli anche del Presidente della provincia, il quale dice che sappiamo che ci sono dei lavori da fare, ma sostanzialmente non abbiamo le risorse. In alcuni casi al Comune di Andria sono appena arrivati questi 670 mila euro, sono stati accertati in entrata, ma ora quegli interventi che sono stati previsti devono essere realizzati. E lo capiamo tutti che in pochi giorni, in brevissimo tempo, è impossibile, tant'è che è stato previsto un periodo di ultimazione dei lavori, il 31 dicembre, però nel frattempo le scuole ripartono. E quindi questo dimostra in maniera plastica l'incapacità che ha avuto questo governo attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione di affrontare per tempo questa situazione. Perché noi abbiamo vissuto quattro mesi dall'inizio di marzo, per cui durante i quali le scuole sono state chiusi, i nostri ragazzi sono stati a casa, ci sono stati mesi estivi e ora si riparte con grosse incertezze, sperando appunto che queste incertezze non alimentino focolai. Perché se non si è previsto un sistema dei trasporti tale da garantire la sicurezza, se non si è previsto un sistema a scuola di distanziamento, il rischio poi è quello. E quindi questo ritardo che si è accumulato, secondo me, potrebbe essere foriero di disagi importanti, è comunque tenuta una incapacità di questo governo ad affrontare questa questione. Questa è la ragione per cui quando avete fatto le liste comunali, lei è il segretario cittadino, quindi le ha fatte direttamente lei, quando ha fatto le liste comunali ha cercato di mettere insieme delle professionalità, delle competenze, delle conoscenze per creare poi una classe dirigente reale per questa città. Sì, nonostante abbiamo avuto pochissimo tempo per quanto è accaduto in Forza Italia, nel senso che sono andati via chi l'ha rappresentata per anni, invece abbiamo colto l'opportunità per rinnovare tutta la classe politica che spero diventi classe dirigente di questo comune, proprio individuando delle persone in grado di esprimere delle idee che hanno capacità, che hanno entusiasmo e che si intendono mettere al servizio della comunità. Ci siamo riusciti, avremmo potuto fare anche di più se avessimo avuto più tempo a disposizione, ma questa del 20, 21 settembre, è per noi soltanto una tappa, è cominciato un percorso di rinnovamento, di crescita che procederà oltre. Ecco, una delle competenze della Regione Puglia è quella del sostegno alla cultura e della promozione soprattutto della cultura. Una delle cose che può essere messa in campo tra Regione e Comune è quella di aiutare appunto i singoli comuni, in questo caso Andria, a recuperare degli spazi, dei contenitori culturali da mettere a disposizione del territorio. Ad Andria c'è il caso del Teatro Astra, faccio solo un esempio. Su questo vorrei sentire entrambi. C'è qualcosa che si può fare di concreto? Credo che si possa e si debba fare molto, perché quell'immobile va recuperato e va destinata a quella che era la sua funzione naturale, cioè a quella di essere un teatro. È ormai, diciamo, inaccettabile vedere quello stabile in quelle condizioni, che è ubicato addirittura all'interno del nostro corso principale. C'era stata anche una petizione qualche anno fa. Ma però, dobbiamo dire che il commissario prefettizio ha avviato un iter teso appunto a destinare quell'immobile appunto a quella funzione. E sarà importante, decisivo, intercettare dei finanziamenti che possano appunto dare luce e ridare vitalità a quel contenitore culturale. Perché è vero che ci sono iniziative culturali che vengono finanziate dalla Regione, però, per quello che sta accadendo, credo che non abbiano quella spinta propulsiva importante e duratura, perché noi abbiamo bisogno di contenitori che esplichino la loro funzione per tutto l'anno. Si pensi a stagioni teatrali anche per i ragazzi che vanno a scuola, alle stagioni teatrali naturalmente più grandi, quindi in sinergia con il teatro pubblico pugliese, così come abbiamo fatto negli anni passati. Però ecco, ora, obiettivo prioritario è il recupero di quell'immobile. Su questo, a livello comunale, che cosa si può fare? A livello comunale si può fare molto. Direi che l'iter amministrativo è già iniziato, quindi la macchina è partita. Su questo devo dare atto al commissario straordinario, al commissario prefettizio, che con delibera numero 29 del 6 dicembre 2019, quindi recentissima, ha emanato un importantissimo provvedimento. Sostanzialmente è stata dichiarata dall'amministrazione l'interesse ad acquisire al patrimonio comunale il bene. Quindi c'è già una volontà espressa che noi poi come prossimo Consiglio comunale dobbiamo portare avanti. Quindi, primo punto, deliberazioni di acquisizione del teatro Astra al patrimonio comunale. Senza di questa l'iter non poteva partire. Secondo punto, per intercettare i finanziamenti regionali, perché c'è una legge della Regione Puglia, io con me la delibera, c'è la legge regionale numero 67 del 29 dicembre 2017, che finanzia l'acquisto di beni comunali di particolari interessi storico e culturali. Quindi, dopo aver dichiarato la volontà di acquisire il bene al patrimonio comunale, il Comune ha fatto anche la deliberazione di interesse storico del bene. Questi due passaggi sono fondamentali per poter inserire il teatro Astra in un elenco, ormai presente presso la Regione Luglia, per accedere ai suoi finanziamenti. Quindi diciamo che il dato è tratto, le condizioni ci sono, ci vuole la volontà politica. Ci vuole la volontà politica da un lato e l'interlocuzione, perché nella delibera è prevista, l'interlocuzione con la proprietà. La proprietà ha manifestato l'interesse a vendere l'immobile, ora bisogna sostanzialmente accordarsi sul prezzo e quindi fare evidentemente una perizia sull'immobile, valutarlo, questo prezzo andrà poi trasmesso alla Regione per poter accedere al finanziamento. Una volta avuto il finanziamento per l'acquisto, il bene diventa di proprietà comunale, si fa un bando per l'eventuale riqualificazione, l'eventuale concessione, lì possiamo intervenire anche con soggetti privati che vogliono, perché chiaramente il Comune non ha grosse disponibilità, però nell'ambito del bilancio possiamo trovare anche dei fondi da destinare a questa importante. Io dico che Andrea ha bisogno di uno stacco culturale, abbiamo bisogno di questo contenitore, non possiamo lasciarcelo sfuggire, deve ritornare ai suoi fasti, tutte le famiglie devono ritornare a frequentare questo luogo, che deve essere un luogo di comunità, di fratellanza, un luogo dove si incontrano le famiglie, i ragazzi, i bambini, la mattina deve servire per le scuole, per i cineforum, il pomeriggio per le scuole di cinema, di teatro, di recitazione, di musica, perché ad Andrea non possiamo avere un'orchestra musicale, in tutte le città ci sono le orchestre cittadini, le orchestre giovanili, ad Andrea non abbiamo orchestre, quindi incentivare la musica, incentivare la cultura. Noi come Forza Italia poniamo al centro della nostra azione politica la scuola, la cultura, la formazione, la pubblica istruzione, lo sport, perché ad esempio, e chiudo, nell'ambito dei nostri pressi scolastici, pensiamo che le scuole debbano essere aperte anche il pomeriggio e mettere a disposizione della comunità, della città e quindi anche delle associazioni sportive tutte le palestre per fare in modo che i ragazzi frequentino le nostre scuole la mattina e il pomeriggio per l'attività sportiva. Ringraziamo allora Antonio Nespoli, candidato di Forza Italia alle regionali, e l'avvocato Aldo Balducci, candidato di Forza Italia al Consiglio Comunale di Andrea. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è nelle prossime ore sempre con elettori ed eletti. Non andate via, restate con i programmi di Teledeon. Grazie per la visione!